lui chi è ciao lucky ti presento il mio avvocato bobby lawrence piacere di conoscerla lucky sa perché gli squali non mangiano avvocati cortesia fra colleghi è giusto è un po vecchiotta ma è divertente è qui per aiutarlo a trovare russell no è qui per aiutarmi con il mio piano quale piano il piano di fine vita ma tu stai morendo no si sta solo preparando per gli imprevisti quali imprevisti beh possiamo dire che alla fine nessuno ne esce vivo sarebbe un peccato non provvedere per tempo al benessere dei nostri cari e chi sarebbero i tuoi cari quando me ne andrò voglio lasciare tutto quello che possiedo al presidente russell la tartaruga se capisco questa stuggine e ha ancora un centinaio di anni davanti a sé un centinaio di anni si sa lucky lei forse non chiudi quella cazzo di bocca come vuole ma russell non era scappato sì ma lo sto facendo per quando tornerà è una tartaruga da casa te stuggine e non lo è haward se ne è andato e tu ora sei solo arriviamo da soli e ce ne andiamo da soli una visione deprimente invece è bellissimo solo viene da sollus completo è nel dizionario e che mi manca andrà tutto bene ahui le testugini sono esseri stupendi lucky sono nobili come un re e gentili almeno quanto una nonna mi manca il mio amico la sua compagnia mi manca la sua personalità non è scomparso soltanto non è qui e altrove dovunque cazzo sia e se non è altrove non è da nessuna parte ecco sono certo che stia bene e perché non vai a fare in culo amico non te ne frega un cazzo di lui vuoi solo spillargli i soldi razza di sanguisuga avvoltoio non sei che un imbroglione gli fai lasciare i suoi ultimi soldi a una tartaruga testugini è una testugine 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 testugine